Allora, siamo agli uffici all'agenzia One Eagles Twins di Livorno con il presidente capitano e anche uno dei giocatori che comunque ha giocato tutte le partite nonostante condizioni fisiche molto particolari. Allora, intanto per voi queste competizioni di calcetto come sono state? No, no, bellissime, c'è stata molta sportività e quindi bella. Vi siete divertiti? Sì, sì. Presidente? Agli ordini. No, devo dire, è stata una bella competizione. Abbiamo trovato davvero un bel gruppo, una bella organizzazione, spirito sano per fare calcio, sport in generale. Quindi contenti di avervi conosciuto e quindi partecipare anche alle prossime... E' chiaro. ...alle prossime competizioni, va. Allora, sentiamo, diciamo, implacabile. Implacabile capitano della squadra. Allora, voi soprattutto, questo magari tocchiamo un argomento diverso, soprattutto avete contribuito enormemente per la realizzazione di questi premi che ovviamente come organizzazione non abbiamo fatto pagare né iscrizioni né niente, quindi insomma, grazie al vostro intervento abbiamo potuto realizzare una premiazione molto importante. Ah, più che altro è stato un bel torneo. Ci siamo divertiti. Gran parte delle squadre sono comunque composte tutte quante da brave persone. E' stato un modo anche per rilassarsi durante il lavoro, le varie giornate lavorative, poi soprattutto prima delle ferie. C'era bisogno di questa pambola di sfogo ed era giusto contribuire, insomma. Senti, un'altra domanda la facciamo nel prossimo video. Ok. Era buona la coca di ieri sera.